Ma noi sinceramente, essendo un miracolo sportivo, per noi adesso chi incontriamo un contempo non ha più nulla da perdere. Quindi noi siamo contenti per questo cammino che abbiamo fatto, eravamo partiti con altre ambizioni, volevamo vincere il campionato, poi c'è successo quello che c'è successo che già ho detto prima e quindi per noi va bene così, ce la giochiamo senza nulla da perdere.